. Replica Isola dei Famosi 2018 Finale Oggi 16 aprile, quando e dove vederla? Ecco quando e dove sarà possibile rivedere lultima puntata di stasera del reality show di Canale 5. . Oggi, lunedì 16 aprile, è il giorno della finale del Cancelletto Isola dei Famosi 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Cancelletto Alessia Marcuzzi. Di seguito e le informazioni su quando e dove sarà possibile vedere la replica dellultima puntata in onda stasera. . Tutto pronto per lappuntamento più atteso dai fan del reality, che questanno ha cambiato location per la finale, non più allidroscalo di Milano ma presso la Rea Expo. . Si preannuncia una puntata incandescente, con Mara Venier e Daniele Bossario opinionisti al fianco della conduttrice, che di recente si è sfogata in una lunga chiacchierata a Verissimo con la presentatrice Silvia Toffanin. Quella che sta per essere archiviata è stata una delle edizioni più tormentate di sempre, a causa dello scandalo legato al cosiddetto canna gate. . Le repliche della finale. La replica della finale dellIsola dei Famosi 2018 sarà disponibile, al termine della diretta di stasera, su Mediaset.it, sito ufficiale dellAzienda del Biscione. . Per tutti coloro che non potranno restare svegli fino a tardi, la replica potrà essere vista domani mattina, accedendo al sito ufficiale isola.mediaset.it, nella sezione video. . Chi ha uno smartphone o un tablet, inoltre, potrà rivedere la finale grazie allApp Mediaset.it, scaricabile gratuitamente sia su Google Play Store che su App Store. . . Il video della replica resterà disponibile anche nel corso delle prossime settimane, sempre sul sito Mediaset.it, digitando nellapposito menu di ricerca in alto a destra la parola chiave Isola dei Famosi. . Ricordiamo che il quarto finalista si conoscerà soltanto stasera, al momento della chiusura del televoto tra Francesca Cipriani e Jonathan. . Chi sarà il primo eliminato della puntata di Oggi dellIsola? L'esito del televoto è incertissimo, dal momento che entrambi sono personaggi molto amati dai telespettatori. . Francesca ha già superato diverse nomination, mentre Jonathan probabilmente è il concorrente con maggiore personalità dell'edizione di questanno. . . Le malelingue concordano nel ritenerlo responsabile delle recenti uscite di Franco Terlizzi e Simone Barbato, che prima di abbandonare l'isola hanno avuto uno scontro proprio con Jonathan. . . I tre concorrenti già certi di partecipare alla fase conclusiva della finale dell'Isola dei Famosi di Oggi sono Cancelletto a Maurice Perez, Bianca Azai e Nino Formicola, quest'ultimi due considerati degli outsider per la vittoria. . . In attesa di conoscere il nome del vincitore, che si porterà a casa un ricco montepremi, pari a 100 mila euro, metà dei quali saranno devoluti in beneficenza, ricordiamo che il primo ad entrare in studio questa sera sarà Stefano De Martino, discusso inviato dell'edizione di quest'anno del reality show. . L'ex marito di Belen Rodriguez ha da poco festeggiato, a distanza, il compleanno del figlio Santiago, strappando più di un applauso tra il pubblico presente in studio nel corso della puntata andata in onda la settimana scorsa, quella della semifinale. .